Ciao a tutti, sono Raffaella e sono entrata anch'io a far parte della grande famiglia di Locus. Scaricate l'applicazione e seguite il mio canale dal titolo Il Tari, segrete i racconti della costiera maffitana. Vi porterò in giro per le strade della Divina Costa a scoprire un territorio meraviglioso. Venite con me! Grazie a tutti! Grazie a tutti!